Sede di Fratelli d'Italia Canavese in Corso Torino a Rivarolo gremita ieri sera venerdì 15 febbraio per l'incontro organizzato in occasione della candidatura di Fabrizio Bertotta al Parlamento Europeo. Per sostenerlo sono intervenute le parlamentari di Fratelli d'Italia Augusto Montaruli e Monica Ciaburro, sindaco di Argentena in provincia di Cuneo, e il coordinatore di Fratelli d'Italia per il Piemonte Fabrizio Comba. Ad aprire la serata, con i saluti di accoglienza, è stato Fabrizio Bertotta. Fratelli d'Italia però ha fatto delle scelte importanti, ha aderito all'ICR, il partito europeo dei conservatori e riformisti, ha in questo momento 50 e più parlamentari, non so bene quanti siano, quindi è un partito che si presenta ai cittadini con una faccia unica, la faccia di quel partito di destra che non andrà mai a governare col PD e non andrà mai a governare con i 5 Stelle, perché soltanto sulla base di questi principi possiamo uscire con lo slogan peranto coniato da Fabrizio Comba che sta arrivando, metti il tuo voto in cassaforte, cioè il tuo voto non andrà mai sprecato, perché lo utilizzeremo sempre e soltanto all'insegna di questi principi che sono fondamentali. Poi con i 5 Stelle e con i PD si possono anche fare dei ragionamenti in termini di riforme, perché è normale che due squadre sconcordino sulle regole del gioco, dopodiché la partita la si gioca da avversario perché ci sono a monte ricette programmatiche e soprattutto dei sistemi valoriali di riferimento che non ci possono rendere compatibili in alcun modo, basta vedere quello che succede adesso al governo, noi non possiamo stare con chi non vuole la Tavo o cose di questo genere. Augusta Montaruli ha sottolineato la crescita del partito e il valore di Fabrizio Bertot, rimarcando che quando era sindaco di Rivarolo la città era diventata la capitale del Canavese. Ricordate quando Fabrizio si candidò a sindaco di Rivarolo, si presentò con quel manifesto con la faccia da bambino che era lui, adesso lui è cresciuto, io quando penso a Rivarolo penso a quel bambino, a altri bambini qua non è da taverne. E lo dico perché? Perché da quella campagna elettorale dove già io c'ero, in realtà c'erano molti di noi, c'era Maurizio Marone che già all'epoca era con noi, altri poi si sono avvicinati nel percorso, però molti di noi c'erano già in quella campagna elettorale, c'erano anche tanti amici che poi hanno preso altre strade in realtà, però da quella campagna elettorale Rivarolo ha cambiato il suo percorso, la sua vita, perché prima di quella campagna elettorale, cioè prima che Fabrizio diventasse sindaco di questa città, Rivarolo era una cosa. Dopo, quando Fabrizio è diventato sindaco di questa città, Rivarolo è diventata la capitale del Canavese, non me ne vogliono gli altri sindaci che sono presenti e che magari sono in questa zona, però quando c'era Fabrizio sindaco di Rivarolo, Rivarolo era la capitale del Canavese. Ed è indegabile il cambiamento che la città di Rivarolo ha avuto negli anni della ottima amministrazione di questo bambino-ragazzo, non più bambino-ragazzo, oggi candidato alle elezioni europee. Vecchio come un cammello. Io lo dico perché con Fabrizio ormai ci conosciamo da una vita, veniamo da un percorso comune che è partito appunto tanto tempo fa, per me quest'anno sono 20 anni che faccio di militanza, immagino per Fabrizio siano anche ancora più, se non già tanti a me, figuriamoci a lui. Però lo dico perché non è che vi devo convincere a votare Fabrizio Bertot alle europee, perché anzi lo conoscete tutti uno a uno e sapete voi che siete sul territorio molto meglio di me, che già ne so quanto Fabrizio ha dato a questo territorio e quanto lui meriti, non solo il vostro voto ma l'impegno di tutti noi a sostenerno. E io sono qua per questo, io sono qua al di là per questa bellissima sede che ho già inaugurato più volte nel corso degli anni, io sono qui per dire che sono insieme a Fabrizio Bertot per la campagna dell'Europa, diciamolo, perché oggi Fabrizio per noi rappresenta una bandiera, soprattutto in un partito come Fratelli d'Italia che vuole crescere, vuole crescere e vuole essere l'alternativa credibile a tutti quelli che sono i battiti della compagine che rappresenta il centro-destra. E che questa argomentazione è quella che noi dovremmo andare a spiegare a tanti, tante, tante persone che un tempo votavano alleanza nazionale, che poi per ragioni che non stiamo qui a ripetere, sapete tutti, hanno cambiato rotta, oggi hanno votato e potrebbero votare Lega, invece noi dobbiamo convincerli che un voto di chi si sente di destra non è il voto dato a Salvini e alla Lega, perché per quanto sia bravo Salvini oggi è un nostaggio, è un nostaggio di Di Maio, di Di Battista, di Fico, di tutti coloro che da un punto di vista dell'economia, e viva Dio, oggi c'è bisogno di qualcuno che parli realmente di economia, di lavoro, che faccia una politica concreta, a vicino ai piccoli, e qua ci arriverò, se volete una politica realmente seria anche su questi ambiti, allora bisogna liberare Salvini dalla mossa del Movimento 5 Stelle. E questo perché lo dico? Perché l'immigrazione e la sicurezza sono temi importantissimi che toccano le nostre panci, i nostri cuori, e per chi viene anche da aree difficili, lo diceva Fabrizio prima, io sono stata eletta alle vallette, non è che è proprio la Beverly Hills di Torino e della provincia, quindi so da dove vengo, però, e temi come quelli sono sentitissimi, però ancora prima di quei temi, ancora prima di quelle problematiche, il problema dei torinesi e di chi vive in Torino e nella provincia di Torino, è che ormai in ognuna delle nostre famiglie c'è almeno un disoccupato, o una persona inoccupata o una persona che si trova in grandissima difficoltà nel mondo del lavoro. Oggi, se noi vogliamo rimettere in piedi le nostre città, la nostra provincia, il canavese, dobbiamo studiare soluzioni che ridiano una vocazione, una vocazione economica a questi territori. Senza questa partita, noi per carità potremmo osannare Salvini per i porti chiusi, ma avremo le porte dei nostri negozi, dei nostri uffici, delle nostre aziende, chiusa anche loro, con tantissime persone già in strada, e molte sono già in strada per colpa del decreto dignità, che anziché creare e incentivare sul mondo del lavoro, in realtà ha fatto soltanto più disoccupati di quanti se ne registrassero prima. Ecco, va bene i porti chiusi, ma noi vogliamo le porte dei nostri negozi, dei nostri studi, dei nostri uffici, delle nostre aziende aperte. E per avere le porte della Torino e della provincia di Torino che produce, abbiamo bisogno di liberare la Lega dalla Morsa dei 5 Stelle. E quindi l'unico voto possibile è il voto dato a Fratelli d'Italia, che qui è rappresentato da Fabrizio Bertot, che si candida in Europa in un ruolo strategico. Strategico perché proprio sui temi dell'economia e del lavoro, noi oggi abbiamo un braccio di ferro con l'Europa, abbiamo bisogno di persone che oltre ad aver saputo amministrare bene il territorio, abbiano lavorato perché purtroppo nel Movimento 5 Stelle ci ha portato il non lavoro, la non gavetta, l'incapacità al potere. Invece noi vogliamo un modello diverso, le persone che hanno fatto qualcosa nella vita, che hanno aperto aziende, che le hanno portate avanti, che hanno amministrato. Noi vogliamo persone così. Fabrizio Bertot te le riassume assolutamente tutte queste qualità. Ed è per questo che è necessario votarle. Monica Ciaburro nel suo intervento ha rimarcato l'importanza di porre attenzione anche ai comuni più piccoli e montani. Io sono davvero contenta di essere qua, anche in questa famiglia, posso definirla tale, perché mi piace vederla e immaginarla come una grossa famiglia che condivide sia le battaglie, quindi anche le preoccupazioni, le cose che dobbiamo portare avanti, e poi le gioie che ne conseguono. Però insieme sicuramente tutto è più facile nei dolori, perché affrontandoli insieme si risolvono meglio. E anche la gioia, quando è condivisa, sicuramente ha l'effetto moltiplicatore. La mia primissima esperienza a Roma mi ha portato a constatare con mano quello che è lo scollamento da quelle che sono le realtà e i bisogni, soprattutto dei comuni, piccoli, meno piccoli, ma che ogni giorno da sindaci ci troviamo ad operare, per cui quelli che sono dei passaggi burocratici, se vuoi ottenere delle cose, un'idea di partecipare a un bando, piuttosto che tutta una macchina che si mette in piedi, che ha dei tempi che sono immensi, delle lungaggini assolute di burocrazia, personale che è sempre più carente, e poi ci sono tutte le questioni di non vicinanza, quelli che sono anche i problemi dei cittadini. Banalmente, non so se anche da questa parte di territorio, più precisamente, noi abbiamo un servizio, è uscito anche lo scorso giorno, del Corecom, che ha riscontrato un segnale RAI che non è così scontato su tutto il territorio nazionale, anzi, nella nostra provincia di Cuneo, ma anche in Piemonte, mi pare dalla Valle Susa, c'è il segnale che è assolutamente o carente o debolissimo, per cui si vede soltanto una trasmissione, ma le paghiamo le tasse esattamente come i cittadini, piuttosto che la rete banda ultralarga, anche qua c'è un progetto, il Bull banda ultralarga, che però ha dei rallentamenti, e questo purtroppo fa sì che dei paesi già sofferenti lo siano ancora di più, non a caso, adesso anche con l'introduzione della fattura elettronica, che io ho, che ne so, un artigiano ad Argentera che deve lavorare, deve fare la fattura elettronica, non ha la possibilità, perché non ha una rete per farla, quindi ha delle complicazioni in più, sono già eroici quelli che vivono e cercano di mantenere salde le proprie radici in questi posti, però veramente lo Stato sta facendo di tutto affinché si spopolino sempre più, anche se a parole sembra, bisogna salvare le montagne, bisogna fare ripopolarle, ma poi nella concretezza dei fatti andiamo esattamente all'opposto, ambiti ottimali per l'acqua, ambiti ottimali per questa, la gestione della montagna, ma fatta dal cittadino, da quella ambientalista che fa l'ambientalista dal salotto, perché direttamente è proporzionale a quanto, a dove vive, perché se dovesse venire lì capirebbe che se puliamo gli argini dei fiumi, come si faceva, come facevano i miei nonni, piuttosto che noi non avremmo tutti quei problemi di assetto idrogeologico che si riversano sulla pianura. Una proposta di legge sulla fiscalità agevolata, perché noi possiamo parlare di tutto quello che volete, ma se a quei cristiani che operano ancora in montagna alzano una cesera cinesca, la alzano quasi sempre per un turista che quando arriva deve trovare un servizio e fa un servizio sociale, perché poi di fatto la gente che vive lì, se non ha un posto dove andare a prendere un caffè, banalmente fare due parole, diventa difficile, per cui devono essere tutelati e garantiti e il cittadino non si deve arrabbiare di questa fiscalità agevolata, perché il primo che vuole fruire di quei territori è trovare qualcosa. Immaginate se noi domani la città di Cuneo o di Torino vuole andare in montagna e trova il deserto. Sì, sì, bellissimo il paesaggio, abbandonato assolutamente a se stesso, ma non vuole prendersi un panino, non può prendersi un caffè, non può trovare un posto dove dormire se vuole trattenersi lì, perché qua magari è soffocato dal caldo della città, non si può più fare nulla. Ma non possiamo continuare a pensare, e sperare che queste persone continuino a fare gli eroici quando invece, ecco in quel caso, un supporto e un aiuto statale serve, non per tutta la montagna, infatti abbiamo messo anche qua, con criteri e buon senso, che sono delle caratteristiche che ci contraddistinguono come fratelli d'Italia, abbiamo messo dei parametri anche, perché poi c'è anche la montagna ricca che non ha certamente bisogno di aiuti o di sussidi, per cui quelli che sono le attività, quella che è la popolazione che si spopola, mettendo tutto insieme, stirare fuori quelli che effettivamente hanno bisogno, nel concreto per poter garantire un servizio, per poter sopravvivere e avere diritto di cittadinanza in quei posti. Abbiamo anche introdotto all'interno della legge quella che è la fattura elettronica, che quantomeno, con un po' di buon senso, vi viene da dire, introduciamola dove la funziona. Non possiamo chiedere agli italiani, andiamo tutti in macchina e abbiamo ancora le strade per le carrozze, perché va da sé che è una cosa che privilegia di nuovo qualcuno, e qualcun altro invece lo fa sempre diventare il fanalino di coda, e deve fare sempre più fatica. Per cui stiamo lavorando in questa direzione con buon senso, con concretezza e nell'interesse esclusivo di cittadini. Usato sicuro, ha definito così Fabrizio Bertot, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Comba, affermando che altri sono passati, ma al partito e al territorio non hanno lasciato nulla. Abbiamo creduto il 20 di dicembre del 2012, il giorno in cui fu forse di un gruppo. L'epoca era un gruppo di sparuti parlamentari, oggi un nutritissimo gruppo di agguerriti parlamentari. E devo dire che chi ha riposto fiducia ai Fratelli d'Italia, come ha detto poco fa l'onorevole Monterruri, ha visto e riconosciuto una grande garanzia, quello di aver avuto la coscienza e la conoscenza che il suo voto è stato messo in cassaforte. È stato messo in cassaforte perché, a differenza di altri, i Fratelli d'Italia, il voto è stato una cosa seria e il rispetto delle persone che hanno voluto riconoscere la fiducia a questi colori voleva significare qualcosa di più importante. Noi firmammo veramente, prima delle elezioni, un patto con gli italiani dove garantivamo in modo serio, determinato, convinto la nostra posizione. E così è stato. Oggi loro sono veramente i garanti della vostra fiducia. Essere qui a Rivarolo per me ha un significato particolare perché venire in Canavese è abbastanza cosa, è un luogo comune per me. Io ho il privilegio di avere molti amici, di aver fatto delle battaglie in Canavese, e di aver condiviso il percorso con molti amministratori, con molti amici, ma soprattutto di avere un grande amico che è Tolomeo, qui presente, con il quale abbiamo fatto un pezzo di strade importante, ci conosciamo da molti stessi anni. Quindi devo dire che a cadenza quasi settimanale vengo qui in questa zona e ci vengo con grande trasporto e sempre grande entusiasmo perché quando poi hai dei legami le cose le fai in modo più naturale. E devo riconoscere a Fabrizio una grande determinazione perché questo è un pazzo, un block tropper della politica. Cioè tu sei convinto di trovarlo in un posto e dopo dieci minuti lui è da un'altra parte. Quindi questo sta macinando chilometri a più di un posto in un collegio che veramente parte quasi da un'attitudine per arrivare a un'altra perché parte da 20 miglia per arrivare ai confini del Veneto, oltre Brescia e quindi lavorare su quattro regioni non è cosa facile. Però i cannabesani hanno un'opportunità ripetibile, non irripetibile perché hanno già avuto la fortuna di vederlo seduto nell'assemblea del Parlamento Europeo e hanno la possibilità di rivederlo e riportarlo soprattutto perché per rivederlo bisogna riportarlo e per riportarlo bisogna riconoscere la fiducia e per riconoscere la fiducia a Fabrizio bisogna metterci dell'impegno perché effettivamente noi siamo un gruppo di amici ma dobbiamo avere la capacità di trasmettere il nostro pensiero, la nostra parola, la nostra determinazione a tanti altri. Noi siamo un certo numero ma dobbiamo fare moltiplicatore. abbiamo una grande responsabilità per voi avete una grande opportunità perché insomma è vero qui Rivarolo è un po' il capoluogo di questo distretto è stato di più in passato in passato era una città sicuramente più ricca era una città più attiva poi si è un po' spenta questa amministrazione ha deciso di spegnere poi definitivamente quella fioca lampadina che era rimasta un pochettino accesa che aveva ancora un po' di energia che aveva lasciato il sindaco Bertò beh oggi si può ridare energia a quella lampadina si può riaccendere quel faro ed è un faro che può illuminare tutto il canaveggio quindi voi avete l'opportunità di avere una persona che può rappresentarvi e non è cosa da poco non è cosa da poco questo è un ambito che può portare grande soddisfazione qui puoi raccogliere grande consenso qui sei a casa tua qui per te è più semplice per voi più semplice lo conoscete è più semplice spenderlo poi è una persona spendibile la ragione augusta cioè qui sono state anche fatte delle cose sono andate un po' oltre però quando ci si rialza ci si rialza più forti e oggi Fabrizio è uno che può mostrare i muscoli e soprattutto può mostrare delle gambe da ciclista convinto di poter raccogliere il massimo comunque nella sua città perché io penso che sia un riconoscimento dovuto e poi alla fine parliamoci chiaro è una legge della fisica quando si crea un vuoto qualcuno lo deve andare a occupare qui c'è un vuoto incredibilmente grande qui avete visto passare rappresentanti autorevoli del territorio partendo da forma per arrivare a tantissimi altri che non hanno lasciato mai niente qui non è rimasto mai niente tutti si sono riempiti sempre tanto la bocca canavesani 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 poi alla fine quando si arrivava in Parlamento si passavano due bellissimi giorni a Roma si ritornava in canavese e poi li finiva con un interrogativo in evaso quindi zero lui se non altro è un sottosicuro ha dimostrato di essere un buon sindaco ha fatto già il parlamentare europeo e noi da buoni piemontesi crediamo in lui puntiamo su un piemontese puntiamo su un canavesano puntiamo su un rivarolese è un'opportunità irripetibile guardiamo un pochettino anche a quelli che sono i nostri interessi i piemontesi e i canavesani Fabrizio Bertotto riprendendo la parola ha ricordato Aldo Costa recentemente scomparso ideatore di numerosi slogan non c'entra niente con noi dal punto di vista politico tutto quanto però niente voglio salutare Aldo Costa che si è andato stanotte insomma lo sapete è quello che ci ha fatto ogni giorno per la nostra campagna elettorale un'ottocchiera del canavese però la nostra campagna elettorale quello slogan per la mia rielezione energia rinnovabile penso che mi abbia lasciato il segno è Aldo con le sue idee con il modo di fare con tutta l'amicizia purtroppo a 59 anni ci ha lasciato oggi sono andato a fargli le condivianze questo non c'entra niente con la politica tutto quanto però è una persona che ci è stato vicino in chiusura di serata è stata scoperta la targa che dedica la sede che un tempo era di alleanza nazionale ad Ettore Roggero già consigliere comunale di Rivarolo sempre a proposito di persone che non ci sono più ma per tutte le regioni passiamo invece alla parte più solenne di oggi noi oggi in continuità con quella che era la sede di alleanza nazionale per scelta di fratelli d'Italia di Rivarolo per condivisione da parte della famiglia nella persona di Giancarlo che oggi non è qui per il complesso della figlia cioè proprio abbiamo beccato l'unico giorno ma vede di ragione abbiamo deciso di dedicare nuovamente rispetto all'alleanza nazionale la sede di Rivarolo all'indimenticabile figura di Ettore Rogero già consigliere comunale di Rivarolo nell'85 ha rappresentato il movimento sociale a Rivarolo ma prima ancora ha svolto l'attività di patronato a Rivarolo ha svolto quindi il patronato adesso è un compagno di pratiche di pensione insomma parliamo di una persona del 21 che ha fatto la guerra ha aderito alla Repubblica Sociale nel 1900 adesso dico la data esatta nel 68 ha fondato la sezione del movimento sociale a Rivarolo al fondo di Vivrea che poi è stata anche la sede del patronato poi si è spostata in Corsetaglia poi noi l'abbiamo trasferita qua quindi a questa figura storica il primo rappresentante della destra del consiglio comunale di Rivarolo abbia deciso di ridedicare la sede già appunto di Alleanza Nazionale la sede di Fratelli d'Italia quindi abbiamo approvato quella che è la targa che poi metteremo sotto e che inviterei io di natura mi vorrebbe da dire che è il coordinatore regionale che deve scoprire la targa però di fronte alle nostre due parlamentari penso che cavalerescamente io i due Fabrizi fanno un passo indietro e lasciano giustamente alle due madrine e beh quando vai girare sono due parlamentari di Alleanza Nazionale i fratelli d'Italia adesso che scoprono la targa però avremo piacere che siate voi a scoprire abbiamo questo privilegio sul tema e quindi è giusto che lo facciate voi ci siete 3 2 1 1 grazie a tutti cosa è scoprire Grazie a tutti.